Dopo il profano con Biagio Antonacci, stamattina la dedichiamo alla visita del centro storico di Imantova e partiamo dal Duomo che stranamente ha una caratteristica particolare perché ha cinque navate diverse mescolando tre stili neoclassico, romanico e gotico e difatti è più lateralmente un palazzo come struttura che non una chiesa, comunque la solidità economica e anche di carattere del mantovano nasce da questo che in alto c'è una lussuosità ostentata però è solida perché è basato su queste colonne di marmo o forse di simarmo molto solide quindi basi solide per garantire una sopravvivenza nel tempo anche di strutture pesanti e sopra strutture è lussuosa. Tutto da nota accuratezza nei dettagli e solo dedicare i dettagli e il messaggio che mi arriva è proprio questo. Quando mi appoggio al pilastro principale di ingresso non posso far altro che sentire solidità, sicurezza, stabilità. Credo che manca l'Italia adesso per la stabilità perché ha le radici della sua storia instabili o comunque variabili. Non sublimati in un unico stile, in un unico ideale, in un unico scopo esistenziale. Grazie, grazie San Pietro. Questo qua è il don dedicato a San Pietro.